la chiesa di Santa Maria della Quercia e la confraternita dei Macellai, vicino Campo dei Fiori. Nella metà del XV secolo, nasceva a Viterbo la devozione verso la Madonna della Quercia, un'immagine della Madonna con il bambino Gesù tra le braccia, dipinta su tegola e posta fra i rami di una quercia, devozione che coinvolse tutte le popolazioni dell'Italia centrale, che portò alla costruzione della bellissima chiesa, iniziata nel 1470. I numerosi commercianti di carne della Tuscia, in particolare i maremmani e i cavallari che frequentavano la zona di Campo dei Fiori diffusero la devozione per quella semplice immagine. A loro, Giulio i assegnò, nel 1507, la chiesa ormai fatiscente di S. Nicola de Curte, per adibirla al luogo di culto dove venerare la Madonna della Quercia. L'antica chiesa di S. Nicola de Curte, costruita tra la metà del sec. Ipsi e l'inizio del sec. Psiv, faceva parte della proprietà degli Orsini, un complesso edilizio comprendente torri, stalle, pozzi, orti racchiusi da un muro di cinta, con le caratteristiche di un isolato, della corte, da cui l'appellativo de Curte. Affidata ai mercanti viterbesi, stabilitisi a Roma come valenti macellai, la chiesetta di S. Nicola divenne subito dopo la sede ufficiale dell'Università dei Macellari, che includeva in origine anche pizzicaroli, norcini e caprettari. Papa Clemente VI, con bolla datata 30 agosto 1532, ne concesse ufficialmente e definitivamente la proprietà alla confraternita dei beccari, macellai, romani. Le corporazioni delle arti e mestieri si chiamavano Universitas. Ogni corporazione possedeva e manteneva la propria chiesa, sede della confraternita. Sisto V maiuscola, per rendere testimonianza della generosità dei macellari che avevano restaurata la chiesetta, il 15 agosto del 1589 confermò l'antico privilegio della confraternita di poter liberare da morte un condannato. Precedentemente Paolo I aveva fatto liberare Benvenuto Cellini, rinchiuso a Castel Sant'Angelo. Nel 1801 Pio via Boli l'Università, a gestire la chiesa rimase solamente la confraternita, ancora oggi attiva. Nel 1727 Benedetto X.I Orsini decise la riedificazione della chiesa ed affidò i lavori inizialmente all'architetto Filippo Raguzzini, poi il progetto fu completato da Domenico Gregorini, la chiesa così fu nuovamente consacrata nel 1738. Altri restauri furono fatti nel 1864, ad opera di Andrea Busiri Vici nel 1961. La facciata in stile rococò.